È uno dei santi più venerati in provincia di Frosinone, nonostante la sua festa cada in giorni freddissimi. Stiamo parlando di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali, i cui festeggiamenti sono andati avanti per tutta la settimana, a partire da martedì 17, giorno vero e proprio della festa nel calendario liturgico. In Ciociaria, la Coldiretti ha scelto la località Tufano, la periferia di Anagni, come luogo per celebrare il santo protettore degli animali. E sono stati proprio loro, pecore, capre, agnellini, mucche, vitelli e cavalli, protagonisti della giornata, quando a centinaia hanno affollato il percorso della processione per ricevere la benedizione. E centinaia sono stati anche gli allevatori che hanno partecipato, con le famiglie al seguito, prima alla Santa Messa e poi alla processione. Un segnale questo, secondo il Presidente Savone, della vitalità del comparto agricolo, che rappresenta un pezzo della storia e dell'economia di Anagni e non solo. A scortare la statua, durante la processione, cavalli e trattori, tutti addobbati, del giallo Coldiretti. A Vico, nel Lazio, invece, la processione è tornata a svolgersi dopo quattro anni di assenza. Dal 2012, infatti, le condizioni meteo non avevano permesso l'uscita di Sant'Antonio, soprattutto a causa del vento forte. Domenica mattina, invece, il santo è tornato per le strade di Vico, grazie alla festa organizzata nel centro storico del paesino dalla confraternita di Sant'Antonio Abate. La statua, uscita dalla chiesa della Madonna delle Grazie, quest'anno per un breve tratto è stata incollata anche dai migranti presenti in paese, un segno tangibile di integrazione con la comunità. Anche qui, come negli altri centri, si è svolta la benedizione degli animali, e non solo, ad essere benedette anche alcune pagnottelle, che poi i confratelli hanno distribuito a tutti gli abitanti di Vico nel Lazio, dopo aver bussato nelle case e detto Sant'Antonio. Grazie a tutti.